Io sono Giulia, lei è BB, il suo vero nome è Royal Courage Umberta, viene dalla Bielorussia, è un bichon frisè, ha 11 mesi, ha cominciato quindi da poco la sua carriera espositiva diciamo e come vedete sono cani molto affettuosi, hanno una caratteristica diciamo questo pelo un po' riccioluto anche se è diverso dal pelo del barboncino, entrambi hanno la caratteristica di non perdere pelo quindi sono cani adatti alla vita in casa però sono allo stesso tempo molto vivaci, sono cani molto affettuosi che vanno molto d'accordo con tutta la famiglia, con i bambini e sono anche se sono molto piccoli dei cani da guardia perché anche al minimo rumore loro sono pronti a scattare e a segnalare la presenza di qualcuno o di qualcosa di strano in casa sono molto giocherelloni, come detto molto attivi e sono dei cani assolutamente molto divertenti, sicuramente impegnativi dal punto di vista del pelo e della toilettatura però allo stesso tempo riempiono di gioia la famiglia, sono sempre pronti a giocare, a prendersi una carezza o qualsiasi altro gioco che è disponibile Oggi per i Bichon Frisee abbiamo la mostra speciale, quindi è un appuntamento importante per loro e per la loro carriera espositiva quindi saranno presenti abbastanza soggetti della razza che fino a qualche anno fa non erano molto presenti in Italia ma oggi si stanno espandendo perché sta diventando sempre più conosciuta come razza perché appunto anche se impegnativa è molto divertente e dà molto amore alla famiglia